Sono 12 nuovi casi di positività al covid-19 in Abruzzo nella giornata di oggi su un totale di 1130 tamponi analizzati, 1% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 8 su un totale di 1080 tamponi analizzati, 0,7%. Nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati dunque 3127 casi positivi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Peschiara dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 214 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.268, meno 50 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 375 pazienti deceduti, più 5 rispetto a ieri. 1.263 invece sono i dimessi e i guariti, più 66 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale di positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 1.489 con una diminuzione di 59 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 51.361 test, di cui 45.356 sono risultati negativi. Nel totale di casi positivi 244 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Monalacuila, 778 all'ASL Lanciano-Vastochieti, 1460 all'ASL di Pescara e 645 all'ASL di Teramo. I 12 casi di oggi si riferiscono 1 all'ASL Lanciano-Vastochieti e 11 all'ASL di Pescara. Non si registrano nuovi casi nelle ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo.